Oggi in questa breve conferenza stampa presentiamo, ci siamo visti non tanto tempo fa per il finanziamento del bando Festina Lenti ideato da Giuseppe Romanetti, presentiamo un altro progetto al quale abbiamo partecipato e per il quale siamo stati finanziati, ovvero estate insieme a Casal Maggiore. Non si tratta in questo caso tanto di parlare di un'amministrazione comunque attenta a recuperare i fondi che ci sono per il territorio, ma quanto di celebrare una collaborazione in questo caso tra Comune di Casal Maggiore, Società Canottieri Amici del Poglio e Ridania e Associazione Il Torione, con le quali abbiamo elaborato appunto questo progetto che riguarda eventi estivi per Casal Maggiore, in particolare centri estivi ma anche spettacoli, per il quale abbiamo ricevuto un finanziamento integrale di, se non ero, 45.800 euro e siamo molto felici insomma che questo progetto, sia stato accolto da Regione Lombardia e di questa fattiva collaborazione tra Comune e Società del Territorio.